Quando ero giovane andavo a letto tardi, sempre vedevo l'alba, dormivo di giorno e mi svegliavo nel pomeriggio, ed era sera, era già sera. La notte non mi piace tanto, l'oscurità è ostile a chi ama la luce, si accavallano i giorni come onde, ci sovrastano, le cattive notizie in questi tempi di forti tentazioni ci sommergono, dobbiamo seguire la nostra coscienza e le sue norme. Viva la gioventù che fortunatamente passa, senza troppi problemi, vivere è un dono che ci ha dato il cielo. Uscendo dai locali mi capitava di vedere code di macchine sostare al parco ravizza o al monumentale, la merce era il sesso, compravano sesso e spesso diverso. Viva la gioventù che fortunatamente passa, senza troppi problemi, vivere è un dono che ci ha dato il cielo. Andavamo a suonare nelle sale della Lombardia e c'era un'atmosfera eccezionale, la domenica di pomeriggio, in quelle balere, si divertivano a ballare, operai e cameriere, era passata un'altra settimana. La domenica di pomeriggio è un'atmosfera, con la domenica di pomeriggio è un'atmosfera,